Fuga d'amore per un detenuto di 41 anni Emiliano condannato per omicidio 23 anni fa. Dopo un ventennio dietro le sbarre, stava scontando parte della pena in una comunità di Parma per il reinserimento dei detenuti. Nel frattempo ha intrecciato una relazione con una ragazza di San Biagio che l'altro giorno ha deciso di raggiungere violando gli obblighi di legge. Tra l'altro alla guida di un'auto senza assicurazione e revisione, subito segnalata alla pattuglia dei vigili di San Biagio, ferma lungo la Callalta grazie alla nuova strumentazione che legge le targhe. Ma all'alte il 41enne invece di fermarsi ha accelerato, innescando un inseguimento lungo la regionale ad oltre 120 all'ora finito nel vicolo cieco di una laterale. Ora per il 41enne si presentano nuovi guai, con possibile rientro in carcere, anche se pare abbia detto al telefono alla fidanzata mentre veniva arrestato, non aspettarmi, vengo più tardi.